In Italia le mamme sono alla continua ricerca di un equilibrio tra vita familiare e lavorativa, spesso senza alcun supporto pubblico, aggravato a causa della pandemia. Marilena Farinola. Per il settimo anno consecutivo l'organizzazione Save the Children diffonde il rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2022, con i valori delle regioni italiane dove essere madri è più o meno semplice, con le regioni del nord sul podio e quelle del sud, seppure in basso nella classifica, comunque in ripresa. Il lavoro femminile è sinonimo di precarietà. Il 42,6% delle mamme italiane, infatti, tra i 25 e i 54 anni non è occupata e il 39,2% con due o più figli minori è in contratto part-time. E nel primo semestre 2021 è stato attivato solo poco più di un contratto indeterminato su dieci. Le donne in Italia devono spesso rinunciare a lavorare, a causa degli impegni familiari, con un divario rispetto ai loro compagni di più di 30 punti percentuali, oppure laddove il lavoro sia stato conservato, molte volte si tratta di un contratto part-time. Nel solo 2020 sono state più di 30.000 le donne con figli che hanno rassegnato le dimissioni, spesso per motivi familiari, anche perché non supportate da sostegni pubblici sul territorio, carenti o troppo costosi, come gli asili nido. Uno scenario del nostro paese, molto complesso quindi, nel quale le mamme sono la continua ricerca di un equilibrio tra vita familiare e lavorativa, spesso senza supporto e con un carico di cura importante, aggravato negli ultimi anni a causa della pandemia. Le donne, a differenza degli uomini, sono in notevole svantaggio quando nei loro orizzonti di vita prende corpo la decisione di avere un figlio. E questo avviene non solo sul versante occupazionale, ma anche su quello retributivo. Inoltre, mentre il tasso di occupazione dei padri tende a crescere all'aumentare del numero dei figli minorenni presenti nel nucleo, quello delle madri tende a diminuire.